A Firenze, Vescovi e Sindaci insieme per azioni di pace e la novità anticipata dal segretario della CEI, Monsignor Russo, dell'incontro Mediterraneo Frontiera di Pace in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio prossimo. Il servizio di Alba Di Palo. Il cammino sinodale sta avendo delle tappe molto significative. La prossima sarà a Firenze, a cui parteciperà anche il Papa. Poi a maggio ci sarà un altro passaggio importante con l'Assemblea Generale dei Vescovi. Stanno emergendo delle esperienze molto belle con il coinvolgimento di tanti giovani e stiamo riscontrando anche l'entusiasmo di tante comunità. Lo ha detto Monsignor Stefano Russo, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, a margine della conferenza stampa sulla conclusione del Consiglio Permanente dei Vescovi. L'incontro su Mediterraneo Frontiera di Pace in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio prossimo sarà un'occasione bella perché, ha spiegato Russo, darà la possibilità di mettere in evidenza la necessità di incontrarsi per edificare ponti tra Vescovi e Sindaci delle aree del mare Mediterraneo, che per la prima volta lavoreranno parallelamente e poi insieme. È una formula nuova e interessante, ha aggiunto il segretario della CEI a proposito dell'appuntamento fiorentino che arriva a due anni dall'incontro di Bari. La speranza è che da lì giungano linee e intenzioni comuni nel segno di un'azione di pace e di comunione di cui vogliamo essere noi per primi testimoni, ha proseguito Russo, sottolineando che bello che Papa Francesco abbia voluto ancora una volta confermare la sua presenza tra di noi.